Moglie e marito. Moglie e marito è un film commedia del 2017 diretto da Simone Godano, con Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Valerio Aprea. Trama. Andrea è un medico che conduce un importante esperimento sulla mente umana, mentre sua moglie Sofia è un'aspirante conduttrice televisiva. I due vivono il loro rapporto tra alti e bassi, in una fase di continui litigi ed incomprensioni, anche a discapito della tranquillità dei loro due piccoli figli. Un brutto giorno Andrea decide di portare a casa il lavoro, e di sperimentare con sua moglie un macchinario che dovrebbe trasmettere i pensieri, ma che invece non fa altro che scambiare le loro menti. Inizierà così per la tormentata coppia, una nuova vita, ancora più complicata della precedente. Recensione. Moglie e marito è un film commedia italiano del 2017, una pellicola che tratta il trito e ritrito tema dei problemi di coppia. Questo film però mostra il tutto sotto una veste nuova, grazie alla geniale trovata del transfert, se così si può chiamare. Nel complesso moglie e marito è un film che ha il suo perché, divertente e il giusto per intrattenere, come un buon blockbuster movì e deve saper fare. Ovviamente però, il finale non può che essere scontato, ma se già ce lo si aspetta e non si hanno troppe pretese, questa pellicola sa regalare una spensierata serata all'insegna della risata non troppo impegnata.